20 anni d'amore, di matrimonio. 20 di matrimonio e 27 di fidanzamento, insomma, di vita condivisa. Sì, sono tanti. Mamma mia, tanti. Beh, ma anche tu non sei tanto lontana. Esatto. Come si fa? Qual è il tuo segreto? Se c'è... Allora, non ci sono segreti in amore. C'è grande rispetto, c'è grande stima, c'è la voglia di rivedersi ancora fra 10 o 20 anni davanti a un camino con una tazza di tè, con un libro. C'è la voglia di viaggiare, c'è la voglia di scoprirsi in un'evoluzione della vita di coppia, perché l'amore cambia. È un po' come le stagioni. Non possiamo pretendere di essere gli stessi di 10 o 20 anni fa, però noi siamo un po' all'antica. Forse anche tu lo sai un po' come me, nel senso che non abbiamo troppi grilli per la testa, non si è parlato tanto di noi. Tendiamo a proteggere un po' la nostra intimità, la nostra famiglia. Io e Alessandro siamo apparentemente molto diversi, ma anche tanto vicini. Io dico che siamo un po' il bianco e il nero, sembriamo un po' Raimondo e Sandra. Grazie. Grazie. Grazie.